La Giunta della Regione Calabria su proposta del Presidente Roberto Occhiuto ha approvato il disegno di legge da sottoporre al Consiglio regionale sulla proroga delle graduatorie del Servizio Sanitario regionale. Si tratta nello specifico delle graduatorie in scadenza del 2023 relativamente ai profili di operatori socio-sanitari e infermieri. In materia di ambiente, sempre su indicazione del Presidente Occhiuto, è stata stabilita la rimodulazione del piano finanziario assegnando al sistema integrato per il monitoraggio e la tutela ambientale degli specchi acque e delle coste calabresi oltre 336 mila euro. Con un'altra delibera, la Giunta ha adottato l'atto di indirizzo che consentirà al Dipartimento regionale e all'ambiente ad Arpacal di completare il progetto per l'attuazione di attività indirizzate ad un ulteriore controllo dell'ambiente attraverso sistemi di monitoraggio e analisi delle acque.